La Polizia di Stato celebra oggi il 171esimo anniversario della sua fondazione. La questura di Barletta Andrea Trani ha festeggiato a Castel del Monte. Vediamo. 171 anni trascorsi al fianco del cittadino. Quasi due secoli di storie, interventi, operazioni finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico. Più di 2000 mesi vissuti dimostrando che una divisa può diventare sinonimo di prossimità. La Polizia di Stato ha festeggiato 171 anni dalla sua fondazione. Un anniversario che gli agenti in servizio nella provincia di Barletta Andrea Trani hanno deciso di celebrare a Castel del Monte Andrea, sposando anche la salvaguardia e diffusione della bellezza. Giornate intense, quelle vissute in reparti e centrale operativa che possono sintetizzarsi nel motto simbolo del corpo, esserci sempre. Abbiamo in centrale la nostra attività specificamente sul controllo del territorio. Molto soddisfacenti sono stati anche i risultati sotto il profilo investigativo. E poi abbiamo portato avanti in quest'ultimo anno anche molteplici iniziative di prossimità che ci avvicinano sempre più alla gente. L'essenza della Polizia di Stato è il servizio e ricordare la sua fondazione serve a rafforzare l'orgoglio e il senso di appartenenza che accomunano gli agenti, il cui lavoro quotidiano è svolto tra la gente nonostante le difficoltà. Sicuramente il problema dell'organico esiste parzialmente nel senso che progressivamente il Ministero sta inviando personale e quindi via via verrà ripianato questo deficit. E' chiaro che c'è bisogno di un maggiore impegno. Un lavoro svolto senza mai risparmiarsi con lo sguardo rivolto sempre al territorio. La Polizia di Stato qui sta dando prova di grande capacità, di grande professionalità. Eppure parliamo di una polizia ridotta nel numero, nei ranghi, numericamente al minimo. Occorre uno sforzo importante da parte dello Stato. Credo che si stiano tenendo dei ritmi assolutamente insostenibili. Penso in particolar modo alla squadra mobile, ma anche all'UPGSP, cioè le cosiddette volanti, la DIGOS. Devono essere rinforzati. Non possiamo sempre contare su una dedizione che è totale, che è massima. Come si sta vedendo, sta dando anche dei risultati. Grazie a tutti.